L'ex Geffino ha sfruttato il viaggio a Roma per incontrare il fratello Nicolò e fare poi tappa ad Osimo e vedere i fratelli e gli amici più stretti. Andrea Zendia vive infatti a Milano, dove lavora e dove si è trasferita anche la fidanzata Rosalinda Cannavò. In queste ore il ragazzo ha colto l'occasione per lanciare una dedica proprio ai suoi fratelli, scrivendo Esserci sempre l'uno per l'altro, sostenersi e crescere insieme. Sono tanto fiero di voi, Broderoth. Andrea Zendia non ha perso l'occasione per scherzare con i suoi fratelli Fabio, Francesco e Nicolò sui social. Felice, dopo aver coronato il suo sogno professionale, Andrea Zendia ha stuzzicato il fratello Nicolò scrivendo su Instagram Stories. Sei diventato il più basso. Fabio e Francesco, avuti da Roberta Termali con il secondo marito Andrea Coroni, hanno infatti ormai superato in altezza il figlio di Walter Zendia.